Smart House Solution rappresenta l'innovazione, anzi qui abbiamo un concentrato di innovazione, abbiamo realizzato un estratto di innovazione proprio per far vedere, per poter toccare ciò che oggi ci aiuta a cambiare il paradigma, a gestire il cambiamento nell'edilizia, andando a premiare l'efficientamento che ci aiuta a massimizzare le prestazioni minimizzando i consumi, minimizzando le emissioni, cioè il nostro messaggio in quest'area è che riusciamo a dare una mano al clima, alla protezione del clima con il risparmio energetico, con l'efficientamento, per cui abbiamo degli elementi esposti che rappresentano l'involucro particolari, con i dettagli e la parte impiantistica, per cui ovviamente è un piccolo bosco di materiali, di elementi che si possono andare a visitare, toccare per vedere ciò che ci aiuta a aprire questa nuova edilizia, questo inizio per un ambiente più sostenibile che serve a tutti noi.